Salve a tutti, eccoci alla prima lezione del corso di Scienza delle Costruzioni. Permettete che mi presenti, mi chiamo Bernardino Chiaia, sono professore ordinario di Scienza delle Costruzioni presso il Politecnico di Torino, dove svolgo abitualmente i corsi di Scienza delle Costruzioni per Ingegneria Civile e Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio. La Scienza delle Costruzioni è sicuramente uno dei pilastri fondamentali dell'Ingegneria Civile, se non il fondamentale. Nella lezione di oggi vedremo un'introduzione al corso, vedremo quali sono gli scopi e le applicazioni della Scienza delle Costruzioni e cercheremo di dare in maniera schematica informazioni fondamentali su come il corso sarà organizzato, con le video lezioni, con il materiale didattico di riferimento e sulla divisione dei compiti tra i tre docenti, me compreso, che appunto svolgeranno le lezioni di questo corso. Pertanto gli argomenti della lezione rappresentano la base della Scienza delle Costruzioni, quindi quali saranno gli argomenti e il programma svolto durante il corso e l'organizzazione didattica dello stesso. Per cominciare, per dire qualcosa sugli scopi e le applicazioni di questa materia dal nome estremamente classico, appunto Scienza delle Costruzioni, è bene dire subito che tale insegnamento all'estero corrisponde ad almeno due moduli, la meccanica dei solidi e la meccanica delle strutture. Per cominciare però richiamiamo il famoso trattato De Architettura di Vitruvio, databile al XXIII a.C. e dedicato all'imperatore Augusto. Vitruvio diceva che una qualunque opera costruttiva è caratterizzata da tre elementi, la venustas, la cosiddetta bellezza, l'utilitas, l'utilità e la firmitas, la solidità dell'opera. La scienza delle costruzioni si occupa espressamente della firmitas. Quello che però è interessante vedere subito è che è vero sì che la scienza delle costruzioni è circoscritta all'ambiente firmitas, quindi solidità delle strutture, sembrerebbe dire allora che l'architettura, l'estetica deve occuparsi della bellezza e dell'utilitas. Così non è perché già nelle definizioni molto antiche di Vitruvio, che vedete per esempio in questa slide, ci rendiamo conto di come bellezza e utilità dipendano intimamente dalla solidità e quindi una buona progettazione strutturale di un'opera sottintende anche una buona riuscita estetica e funzionale dell'opera stessa. Vedete cosa dice Vitruvio? La bellezza dipende dall'aspetto dell'opera, se sarà piacevole di buon gusto e se le misure dei membri avranno le giuste proporzioni, quindi il concetto di proporzioni tra le membrature di un'opera civile. Vediamo cosa dice dell'utilitas, l'utilità dipende dall'esatta distribuzione dei membri dell'edificio e abbia ciascuno l'aspetto suo proprio, quindi di nuovo una buona funzionalità di un'opera, un edificio, un ponte, una diga, dipende dalla distribuzione dei membri dell'edificio e quindi dal giusto proporzionamento dei vari membri strutturali. E infine la definizione di solidità, la solidità dipende dal calare le fondamenta fino al sodo e fare senza avarizia esatta scelta dei materiali, senza avarizia esatta scelta dei materiali, quindi l'importanza di scegliere il giusto materiale e di evitare risparmi inutili e dannosi che spesso poi sono causa dei crolli e in generale di una brutta riuscita di un'opera civile. La scienza delle costruzioni è sempre stata vista in maniera duale come scienza o arte del costruire. Sicuramente essere dei buoni ingegneri strutturisti, dei buoni ingegneri civili direi, ancora più largo, con una visione ancora più aperta, significa avere un'ottima padronanza di almeno tre aspetti. Un'ottima padronanza del comportamento dei materiali, vedete qui nella slide la cupola di Michelangelo è fatta in muratura, muratura cerchiata con degli anelli in ferro, poi anelli messi anche in fasi successive alla costruzione di Michelangelo per scongiurare il crollo e le lesioni nella volta. I grattacieli Petronas Tower a Kuala Lumpur in Malesia sono fatti di acciaio e calcestruzzo. Il comportamento del materiale muratura è profondamente diverso da un comportamento dell'acciaio e del calcestruzzo e quindi l'ingegnere deve conoscere profondamente il comportamento meccanico dei materiali. Allo stesso modo ci vuole una buona padronanza del funzionamento strutturale, anche questo è un qualcosa che impareremo nella scienza delle costruzioni. Il funzionamento della cupola, il funzionamento di una struttura che lavora per forma propria è profondamente diverso dal funzionamento di un telaio in cemento armato e acciaio, snello, quale quello dei grattacieli qui mostrati sulla destra. Infine il terzo aspetto di cui bisogna acquisire padronanza e questo sarà fatto nei corsi successivi alla scienza delle costruzioni è quello delle tecniche costruttive. La tecnica costruttiva con cui fu eretta la cupola di Michelangelo a Roma è profondamente diversa dalle tecniche attualmente utilizzate per tirar su un edificio alto, un grattacielo in telaio in cemento armato e acciaio. E quindi la contemporanea padronanza di comportamento del materiale, schema strutturale e tecniche costruttive è quello che definisce un buon ingegnere strutturista e ci consente anche di avere ottimi risultati da un punto di vista estetico e funzionale. L'arte della modellazione. Nel corso impareremo la cosiddetta arte della modellazione. L'ingegnere deve essere in grado nel concepimento, nella concezione di un'opera o nella verifica di un'opera esistente, di astrarre dall'opera reale degli schemi, dei modelli concettualmente validi su cui fare i propri calcoli e i propri ragionamenti. Innanzitutto l'ingegnere deve essere in grado di modellare la struttura, poi di modellare i vincoli, il collegamento tra le strutture e il suolo per esempio, le fondazioni e poi di modellare le forze, le sollecitazioni esterne che possono essere forze, carichi, tipo il peso, i carichi che una struttura deve sopportare, ma possono essere anche sollecitazioni di tipo ambientali, variazioni termiche o altro. E infine deve essere in grado, come già detto, di modellare il più fedelmente possibile il comportamento meccanico del materiale. Nel corso di scienza delle costruzioni impareremo i principi fondamentali con cui fare queste quattro modellazioni in maniera corretta. Rapidamente vediamo cosa si intende per modellazione della struttura. Le strutture possono essere strutture monodimensionali, ad esempio formate da travi, pilastri, da aste, da funi. Sono strutture dove la linea media rappresenta l'entità geometrica con cui si va a modellare il comportamento di un elemento che altrimenti è tridimensionale. Le caratteristiche geometriche, l'area, i momenti di inerzia, vengono tutti fatti coincidere sull'asse della trave stessa e quindi si ha una cosiddetta modellazione monodimensionale. Vedete qui nella slide ad esempio una struttura tensegrity formata da aste compresse, dette puntoni, e funi metalliche, dei cavi metallici tesi, detti tiranti. Sono strutture tipicamente monodimensionali. Poi vi possono essere strutture bidimensionali. Strutture bidimensionali sono strutture che vengono modellate tramite il cosiddetto piano medio. Lo spessore della struttura bidimensionale nella modellazione viene fatto svanire e viene tutto concentrato, le proprietà meccaniche e quelle geometriche, a livello del cosiddetto piano medio. Vedete qui sulla sinistra una copertura pneumatica, una membrana pneumatica dove è proprio la pressione interna di questo palazzetto dello sport negli Stati Uniti a dare la forma e la portanza alla membrana tesa, laddove questo paraboloide iperbolico in calcestruzzo, vedete, lavora per propria forma e viene modellato, può essere modellato tramite un piano medio a forma di paraboloide iperbolico. Le strutture più difficili da modellare sono quelle tridimensionali. Le strutture tridimensionali dove cioè nessuna delle dimensioni può essere trascurata e in questo caso ci vengono in aiuto le tecniche numeriche. Il modello attualmente più usato è il modello degli elementi finiti, di cui qui vedete un esempio. Una galleria in un pendio in roccia viene modellata discretizzando la roccia e gli elementi vari del rivestimento della galleria tramite i cosiddetti elementi finiti. Impareremo i primi rudimenti di questo metodo e vedremo cosa si intende appunto per modellazione numerica di una struttura. Bisogna poi saper modellare i vincoli. Allora i vincoli, guardiamo ad esempio questo viadotto. L'appoggio a sinistra di questa trave è un appoggio fisso e graficamente lo indicheremo con una cerniera fissa. L'appoggio intermedio su questa pila intermedia del nostro ponte viene ancora modellato con una cerniera che non interrompe la continuità della trave. Viceversa, le due travi in questa posizione indicata dal mouse, sono collegate con una sella Gerber cosiddetta e nella nostra modellazione vedete il vincolo interno verrà modellato con una cerniera interna, proprio per far vedere che le due travi tra loro saranno libere di ruotare. La spalla di destra, la cosiddetta spalla mobile, vedete invece viene modellata con un carrello, un carrello scorrevole. Questo simbolo implica il fatto che in questa posizione la trave può muoversi orizzontalmente ad esempio a causa delle variazioni termiche. Impareremo infatti a vedere che riscaldando il ponte per effetto del risaggiamento il ponte si allunga e quindi il vincolo di estremità deve poter consentire questi spostamenti. Dobbiamo poi imparare a modellare le sollecitazioni, ad esempio i carichi. Allora su questa trave, in questo caso un viadotto a una sola campata, vedete abbiamo un carico distribuito spalmato in kg per metro che potrebbe ad esempio rappresentare il peso proprio della struttura e delle sovrastrutture, asfalto, barriere eccetera. E poi vi sono i carichi mobili, i carichi mobili rappresentati dalle automobili, dai camion o dai treni se si tratta dobbiamo saper modellare i carichi concentrati, trasmessi quindi tramite le gomme, tramite gli appoggi, carichi mobili che quindi possono muoversi lungo il ponte. Vi dicevo prima non ci sono soltanto carichi forza, vi sono anche delle sollecitazioni ambientali, vedete in questa slide estremamente sintetica ad esempio una diga, un muro di sostegno che subisce da una parte le spinte da sinistra verso destra dell'invaso, che sia esso un invaso liquido quindi una diga oppure del terreno sciolto e quindi più propriamente un muro di sostegno e quindi le spinte triangolari da sinistra si sommano all'irraggiamento dovuto all'esposizione della struttura che crea un gradiente di temperatura lungo lo spessore della struttura stessa e quindi dobbiamo essere in grado di unire queste sollecitazioni di tipo ambientale ai carichi più propriamente detti quindi alle forze generate dai pesi e dalle strutture mobili sulle nostre membrature. Infine la modellazione fondamentale, la modellazione del materiale, il comportamento meccanico del materiale lo andremo quasi sempre ad approssimare con un comportamento elastico lineare. In un grafico carico allungamento il nostro materiale strutturale avrà una risposta lineare nel senso che sarà elastica, non ci saranno dissipazioni energetiche e allo scarico ripercorreremo la stessa curva di carico senza deformazioni residue. Questo è il comportamento ideale di un materiale strutturale che quindi caricandosi e scaricandosi non dissipa energia, non si danneggia, ma è un comportamento virtuale, teorico. In realtà molto spesso i materiali hanno delle curve di elasticità non lineare, tipo questa mostrata qui nella slide di destra, oppure possono avere comportamenti di tipo elastoplastico dove oltre un certo limite di deformazione o di carico, si ha una perdita di elasticità, una perdita di rigidezza, vedete la curva prosegue orizzontale oltre questo limite e se scarichiamo il nostro corpo il materiale è soggetto a una deformazione residua. Questo comportamento elastoplastico significa esattamente il fatto che il materiale nel processo di carico e scarico ha dissipato energia subendo dei danneggiamenti interni e anche questo andrà preso adeguatamente in conto quando utilizziamo un certo materiale nelle nostre strutture. E infine impareremo a calcolare i limiti di rottura del materiale. Oltre a un certo limite di sollecitazione, intesa come sforzo statico o come deformazione, il materiale si rompe e questi limiti di rottura rappresentano i confini al di là del quale le nostre strutture non possono andare affinché svolgano i loro compiti in sicurezza. Vediamo adesso un po' più in dettaglio quali saranno gli argomenti affrontati nel corso e un po' di organizzazione didattica del corso stesso. Innanzitutto ci sono da delineare quattro grandi gruppi di argomenti. Il primo gruppo è rappresentato dalla statica e cinematica dei sistemi di travi rigide. Dopo la statica dei sistemi di travi passeremo al secondo argomento, macro argomento direi, la meccanica dei corpi deformabili con la teoria dell'elasticità. Il terzo macro argomento è rappresentato dal solido di Saint-Venant con le verifiche di resistenza e questo sarà un argomento fondamentale per l'ingegneria civile proprio perché si occupa del fondamentale elemento trave, quindi sviscera il comportamento degli elementi monodimensionali inseriti all'interno di strutture. E infine il quarto macro argomento, la teoria della trave e la meccanica delle strutture dove si estenderanno i concetti visti nella statica alle strutture vincolate in maniera sovrabbondante, le cosiddette strutture iperstatiche, e impareremo anche a calcolare gli spostamenti di queste strutture supponendo che siano costituite da materiale elastico lineare. Il primo macro argomento, quindi la statica e cinematica dei sistemi rigidi, a sua volta può dividersi in uno studio della statica, che è sostanzialmente lo studio dell'equilibrio delle forze agenti su un generico corpo, e in uno studio della cinematica. Questi due aspetti, statica e cinematica, sono legati in maniera indissolubile, sono direi l'uno il duale dell'altro. Vedremo che una qualunque struttura, laddove è vincolata, esplica una reazione, una reazione di tipo statico, laddove invece la struttura è libera di muoversi non esplicherà una reazione, quindi c'è questa dualità tra statica e cinematica. I due aspetti sono in maniera indissolubile legati, perché altrimenti non riusciremo a valutare la labilità, l'isostaticità o l'iperstaticità delle strutture senza far riferimento appunto al loro grado di vincolo complessivo rispetto al sistema di riferimento fisso. Vedremo quindi cosa sono le strutture isostatiche, impareremo a calcolare i diagrammi degli sforzi interni, impareremo anche a trovare la cosiddetta curva delle pressioni che rappresenta un concetto fondamentale soprattutto nelle strutture murari e strutture dove appunto la resistenza a flessione vedremo non è così ottimale e vedremo poi le varie tipologie di strutture isostatiche, gli archi, le travi reticolari, le travi continue, Gerber e le maglie chiuse. Impareremo a risolvere tutte queste strutture dove per risolvere si intende trovare le reazioni vincolari di queste strutture sotto l'azione dei carichi esterni e trovare gli sforzi interni in tutte le membrature. Impareremo per esempio a distinguere le prestazioni di una trave piena da quelle di una trave reticolare. Una trave reticolare a parità di materiale come vedete in questa slide ci permette di superare i limiti di luce di campata di questo ponte sulla sinistra consentendoci di coprire una luce notevole di circa 150 metri, in questo esempio ritratto a Chicago, per di più trasportando sia carico su gomma nella via inferiore sia il treno nella via superiore. Quindi impareremo i vantaggi delle travi reticolari, vantaggi che sono immediatamente deducibili da questo schemino statico. Derivano proprio dal braccio B che si crea a livello interno nel flusso delle forze di compressione e trazione, nel corrente superiore la compressione, nel corrente inferiore la trazione. In una trave piena impareremo a vedere che questo braccio B è meno efficiente e a parità di efficienza saremmo costretti ad avere una trave piena molto grossa. Quindi la struttura reticolare già si preannuncia come soluzione, ottimizzazione di una travatura piena. Impareremo a vedere il funzionamento degli archi e delle funi. L'arco è una struttura curvilinea che lavora per forma propria, assoggettando il materiale a sforzi prevalentemente di compressione. La fune viceversa è una struttura che di nuovo lavora per forma propria, priva di rigidezza flessionale e che quindi lavora per pura trazione. Vedete qui un arco naturale in roccia e la fune portante del famoso ponte Golden Gate a San Francisco. Anche qui, per archi e funi, impareremo dalla statica che l'efficienza è data proprio dal braccio B che si crea tra la spinta alle imposte dell'arco e le compressioni sulla chiave dell'arco, nel caso della struttura compressa, oppure, di nuovo, da questa distanza B tra il punto più depresso della fune e il colmo delle antenne del ponte sospeso dove si scaricano a suolo le compressioni. Quindi la statica ci permetterà con ragionamenti molto semplici di definire efficienza e funzionalità dei vari tipi di strutture. Ricordo appunto la capacità di leggere lo schema strutturale, la padronanza del funzionamento strutturale che è un aspetto fondamentale del lavoro dell'ingegnere strutturista. Il secondo macro argomento è la meccanica dei corpi deformabili. Rimuoveremo l'ipotesi di corpi rigidi. Il corpo sarà considerato deformabile e ne vedremo l'analisi della deformazione e quella della tensione. Due grandezze, anche qui duali, collegate tra loro tramite il cosiddetto principio dei lavori virtuali per i corpi deformabili che rappresenterà l'identità fondamentale della meccanica cosiddetta del continuo. E infine introdurremo la teoria dell'elasticità lineare, quindi il comportamento elastico dei materiali, e arriveremo a dedurre dei criteri di resistenza basati sulle prove di laboratorio dei materiali stessi che ci consentiranno di avere dei limiti di progettazione, di funzionamento meglio di questi materiali da un punto di vista statico o deformativo. I concetti di tensione e deformazione rappresentano una novità fondamentale che viene introdotta qui nella scienza delle costruzioni e rappresentano il funzionamento microscopico interno dei corpi deformabili. Vedete in questa slide un semplice esempio di una porzione per comodità bidimensionale di materiale soggetta a una trazione sigma x. Queste forze per unità di area sono le cosiddette tensioni che possono essere normali alle superfici o tangenziali alle superfici e nel qual caso si chiamano tau, per effetto di queste tensioni avremo deformazioni interne del corpo. Le tensioni normali provocano dilatazioni che indicheremo con le lettere epsilon, le tensioni tangenziali provocano distorsioni, scorrimenti che indicheremo con le lettere gamma. Impareremo quindi in ogni punto del corpo solido a definire lo stato tensionale e deformativo attraverso queste grandezze di importanza fondamentale nell'ingegneria strutturale. Fatto questo passeremo a caratterizzare il materiale elastico dalla famosa frase ut tensio sic vis che ci dice sostanzialmente in latino che tale è l'estensione di un corpo proporzionale deve essere la forza cui il corpo è assoggettato, delineeremo la famosa legge di Hooke, tensioni sigma direttamente proporzionali alle deformazioni tramite un coefficiente che chiamiamo con la lettera maiuscola E che rappresenta proprio la caratteristica del materiale. Ogni materiale sarà caratterizzato da un modulo elastico E e la sua risposta meccanica in un grafico forze, spostamenti o tensioni, deformazioni che è lo stesso sarà un grafico lineare. L'area al di sotto del grafico sarà l'energia immagazzinata. Terzo macro argomento del corso, il solido di Saint-Venant e le verifiche di resistenza. Quindi vedremo le ipotesi della teoria, le sollecitazioni elementari cui è soggetta una trave, lo sforzo normale diretto come l'asse della trave di trazione o di compressione, il momento flettente che dipende dalla distanza tra gli appoggi delle travi e i punti di applicazione del carico, il momento torcente e il taglio. Studieremo quindi le tensioni e deformazioni sotto le varie sollecitazioni elementari e impareremo a fare le verifiche di resistenza delle travi e dei pilastri. Le sollecitazioni elementari vedete in questa prima slide una coppia flettente. Impareremo sotto la presenza di una coppia flettente a trovare il campo di tensioni σ e il campo di deformazioni ε all'interno di elementi monodimensionali. Faremo lo stesso per una sollecitazione di taglio. Una sollecitazione di taglio, vedete, una forza T diretta secondo l'asse y oppure secondo l'asse x. Lo faremo per lo sforzo normale, una forza diretta assialmente sulla trave, quindi secondo l'asse z e lo faremo infine per i momenti torcenti. I momenti mz attorno all'asse della trave, per tutte queste sollecitazioni impareremo a calcolare stato tensionale e stato deformativo nell'ipotesi di materiale elastico lineare, omogeneo e isotropo. Ultimo macro argomento del corso, la teoria della trave, la teoria tecnica della trave, meglio, con la meccanica strutturale. Vedremo come calcolare le curvature delle travi elastiche, come calcolare gli spostamenti delle travi sotto l'azione delle forze e delle variazioni termiche. Vedremo quindi come risolvere le strutture iperstatiche, quindi le strutture vincolate con un grado di vincolo sovrabbondante rispetto a quello necessario e faremo quindi un cenno anche al metodo numerico di soluzione di queste strutture a molte incognite, tra cui il metodo principe, ai giorni nostri, il metodo degli elementi finiti. Infine, l'ultimo argomento del corso sarà dedicato a un insidioso fenomeno di collasso, quale quello dell'instabilità dell'equilibrio, che è il fenomeno cui sono soggette le strutture compresse molto snelle, tipo i pilastri snelli, gli archi e i gusci sottili. Impareremo quindi a vedere il funzionamento meccanico di questi assemblaggi di elementi monodimensionali. Vedete un telaio iperstatico di tipo reticolare che è alla base di questo grattacielo, anch'esso nella città di San Francisco, dove l'assemblaggio di elementi verticali e orizzontali con quelli diagonali fornisce, oltre alle capacità portanti nei confronti dei carichi verticali, un ottimo comportamento nei confronti dei carichi orizzontali. E ricordiamo appunto carichi orizzontali di tipo sismico o di tipo vento. Impareremo a risolvere le travi continue a molte iperstatiche, travi cioè dove le varie campate non sono separate da cerniere, ma dove l'impalcato è una struttura unica, continua e quindi dotato di un grado di vincolo sovrabbondante. In tutto il corso, mi preme dire subito, vedremo molto spesso come la natura ci dà degli insegnamenti fondamentali. Ad esempio, sui materiali. Qui vedete rappresentata una sezione di un bambù, che è uno dei materiali eccellenti tra i materiali naturali dal punto di vista del comportamento statico. Il bambù ha una distribuzione di fibre all'interno di una matrice più molle, tale che questa distribuzione con fibre più fitte sull'esterno e sempre meno fitte verso l'interno, ci dà un comportamento elastico non lineare, la cosiddetta curva agei, che è tipica dei materiali biologici, una curva irrigidente che ci permette, a parità di spostamento, di immagazzinare poca energia e quindi una curva ottimale nei confronti della frattura. Non c'è grande energia potenziale immagazzinata se la curva è di tipo agei. La natura ci insegna anche come ottimizzare i pesi, quindi avere le strutture ottime da un punto di vista di impiego del materiale. Già nel secolo scorso Kuhlmann disegnò le linee di sforzo all'interno di un femore umano, linee di sforzo rappresentate da sforzi di compressione, vedete questi pseudo verticali e sforzi di trazione pseudo orizzontali che poi vanno a formare il comportamento flessionale della parte snella del femore e osservando al microscopio, ma anche a occhio nudo la testa di un femore si vede come il materiale, la parte dura dell'osso, la parte corticale strutturale dell'osso vada proprio a concentrarsi secondo questi reticoli mutuamente ortogonali di trabecole, ottimizzando quindi i pesi e realizzando un comportamento ottimale da un punto di vista statico. Queste strutture di minimo peso in natura sono frequentissime, ad esempio la coda del pavone ha una struttura a forma di spirale dove gli elementi compressi e quelli tesi formano tra loro in ogni punto angoli di 90 gradi, questo si vede anche nelle ragnatele, la ragnatele ha un'altra struttura di minimo peso, una struttura estremamente brillante, vedete che abbiamo degli elementi tesi circonferenziali con degli elementi tesi radiali, in ogni punto l'angolo è pressoché retto e questa struttura rappresenta l'archetipo di una membrana discretizzata dotata di grandissima leggerezza e a parità di materiale di estrema resistenza. Nell'ingegneria questi concetti di reticoli e appunto di leggerezza membranale ottimale sono stati ripresi ad esempio nelle tensostrutture dove con pochissimo carico, vedete una membrana sottile, tesa all'estremità e che trasferisce i carichi a un pilone centrale compresso, con pochissimo materiale riusciamo a coprire delle grandi aree, delle grandi superfici, ottimizzando quindi il rendimento oltre che meccanico anche energetico degli edifici. La natura ci insegna anche il funzionamento dei ponti, questi schemi di travi reticolari, la trave Fink e la trave Pratt, formati entrambi da elementi compressi più spessi e elementi tesi più sottili, non sono altro che la trasposizione ingegneristica del funzionamento dello scheletro dei quadrupedi dove i tendini e le costole erano appunto rispettivamente le strutture tese e le strutture compresse. I ponti strallati, meraviglia dell'ingegneria dei ponti, anche essi non sono staticamente uno schema nuovo, non rappresentano una novità concettuale perché già nella natura i grossi quadrupedi avevano un funzionamento strallato ad esempio per sostenere il cranio da parte della costola più alta e quindi vedete la natura oltre a darci grandi ispirazioni a livello dei materiali ci ha dato sempre ispirazione anche a livello degli schemi strutturali. Le strutture gerarchiche, vedete qui la torre Eiffel, la torre Eiffel è formata da aste metalliche, aste di varie dimensioni con almeno quattro livelli gerarchici diversi. Questo è un aeroporto in Germania anch'esso formato da piloni che si ramificano fino ad arrivare a quattro livelli gerarchici e anche qui capite bene che l'ispirazione per una tale ottimizzazione strutturale deriva dalla natura, dalle strutture ad albero e vi anticipo che la gerarchizzazione degli elementi strutturali è uno dei criteri fondamentali adesso per garantire sicurezza rispetto al collasso delle strutture. Ancora la natura ci insegna che le strutture più grosse sono più fragili, l'osso di un elefante è più fragile dell'osso di un gatto, se un elefante cade da fermo spezza il femore, un gatto può cadere dal terzo o quarto piano di un edificio senza riportare danni importanti. L'effetto scala che ci insegna già Galileo Galilei nel 600, prendendolo tale ossa e quindi della natura, ci spiega certe rotture altrimenti incomprensibili di strutture molto grandi, ad esempio queste torri di raffreddamento in Inghilterra, rotte in maniera estremamente fragile e imprevedibile per effetto di una semplice burrasca, di un vento leggermente superiore a quello medio. Gli ingegneri civili hanno una notevole responsabilità sociale, i crolli e i collassi derivano quindi da errori tipicamente dell'ingegnere, errori di tipo concettuale, errori sulle previsioni degli sforzi a cui le strutture andranno soggette oppure errori dimensionali sul proporzionamento delle varie membrature. Già Galileo metteva in luce questa possibilità, il passaggio dalla trave appoggiata su due punti e quindi trave che si rompeva al centro, di primo acchito si potrebbe pensare di risolvere questo problema mettendo un terzo appoggio al centro, ma se il terzo appoggio inizia a lavorare più di quanto dovrebbe, perché gli appoggi estremi marciscono ad esempio per effetto dell'acqua o delle piogge, avremo una rottura al centro ben più grave e inaspettata che non la rottura in mezzeria dalla parte di sotto che si sarebbe potuto aspettare con solo i due appoggi. Questo semplice disegnino di Galileo ci fa notare per esempio come le strutture iperstatiche sono sensibili ai cedimenti vincolari, sono sensibili alle variazioni termiche e allora l'ingegnere non può fare a meno di valutare anche questi effetti ambientali se la struttura è iperstatica, trascurarli sarebbe un errore grave che potrebbe portare al collasso. Vi dicevo la responsabilità sociale, è fondamentale fare strutture sicure ma anche strutture durevoli, vi è una responsabilità anche economica in questo senso, le strutture devono avere una propria durabilità, non è pensabile associare ad ogni struttura costi di manutenzione pesanti e allora l'ingegnere strutturista, ricordate Vitruvio, deve far uso senza avarizia dei materiali e l'esecuzione, i cui dettagli imparerete poi nei corsi di tecnica delle costruzioni e di cantieri, l'esecuzione dovrà essere sempre svolta al meglio. La deformabilità è un altro degli aspetti che spesso gli ingegneri trascurano, la grande deformabilità delle strutture è una delle cause inaspettate dei crolli, qui vedete una deformata del famoso ponte Tacoma nello stato di Washington degli Stati Uniti, che andò in risonanza per effetto delle vibrazioni indotte dal vento e rovinò miseramente al suolo semplicemente a causa della sua eccessiva deformabilità. Il calcolo di resistenza di questa struttura era corretto, non era stato preso in conto il problema della deformabilità, in particolare della deformabilità sotto carichi dinamici. Le strutture con i nuovi materiali possono essere sempre più leggere, sempre più ardite e allora non dobbiamo dimenticarci quanto più la struttura è ardita, tanto più dobbiamo diventare paranoici, direi, maniaci nell'andare a cercare tutte le possibili, quando anche fossero praticamente improbabili, cause di crollo o di sollecitazione. L'organizzazione delle video lezioni. La prima parte, le prime 15 video lezioni sulla statica saranno svolte dal professor Ferro, mio collega della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. La seconda parte, che corrisponde a 20 video lezioni e riguarda i due macro argomenti centrali del corso, la meccanica del continuo, la teoria dell'elasticità e il sodio dissemerante, saranno svolte dal sottoscritto, per un totale, vi dicevo, di 20 video lezioni. E infine, il quarto macro argomento, la teoria della trave con le strutture iperstatiche e l'instabilità, saranno svolte dal professor Cornetti, anche lui del corso di Ingegneria Civile del Politecnico di Torino, nella nostra Facoltà di Ingegneria. Prima di chiudere la lezione di oggi, vorrei dire due parole sui testi che andremo a adottare. Il testo didattico di riferimento fondamentale è il testo del professor Carpinteri, Scienza delle Costruzioni, edito dalla Pitagora. È un testo in due volumi, il professor Carpinteri, professore anche egli nel Politecnico di Torino, nella Facoltà di Ingegneria, fondatore della nuova Scuola di Scienza delle Costruzioni del Politecnico di Torino, è un testo estremamente chiaro, molto semplice, molto adatto proprio da un punto di vista didattico. Altro testo di riferimento è il testo redatto dal professor Sollazzo del Politecnico di Bari, con l'aiuto di altri colleghi sempre del Politecnico di Bari, edito dalla UTET in tre volumi. Questi due testi rappresentano i due testi fondamentali di riferimento. Testi di approfondimento che non dovrebbero mancare nella biblioteca di un ingegnere strutturista sono il testo del professor Corradi del Politecnico di Milano, Meccanica delle strutture, edito da Megro Hill, il testo famosissimo del professor Belluzzi, oggi deceduto, professore nella Facoltà di Ingegneria della Università di Bologna, edito da Zanichelli in quattro volumi. In particolare questo è un testo dove si trovano soluzioni pratiche, ma anche analitiche, di problemi svariati che potreste incontrare anche nella progettazione e nella professione di tutti i giorni. Il manuale dell'ingegneria civile è un manuale edito dalla Zanichelli ESAC in tre volumi. Il secondo volume è dedicato proprio alla scienza e tecnica delle costruzioni. Sono qui approfonditi tutti gli aspetti fondamentali della meccanica strutturale. Ci si trovano anche i problemi della ingegneria sismica, della dinamica delle strutture, nonché il comportamento meccanico dei materiali più innovativi, quali ad esempio il legno lamellare, l'alluminio e altri materiali laminari, per esempio, che tipicamente non sono approfonditi nei testi didattici tradizionali. Infine l'ultimo testo che vorrei consigliarvi è il testo del professor Benvenuto, compianto professore dell'Università di Genova, della Facoltà di Architettura dell'Università di Genova, la scienza delle costruzioni e il suo sviluppo storico. È un testo della Sansoni, non facile da trovare, ma comunque disponibile nella nostra biblioteca del Politecnico di Torino, ed è di particolare importanza per chi fosse interessato allo sviluppo storico della scienza delle costruzioni, quindi sia allo sviluppo storico delle tecniche di modellazione e tecniche analitiche, sia allo sviluppo delle tecniche costruttive. È un testo particolarmente importante per chi si trovi ad operare nel settore della ristrutturazione delle costruzioni monumentali, delle costruzioni storiche, che, non dobbiamo dimenticare, erano state progettate con materiali di un certo tipo e soprattutto con delle concezioni statiche di un certo tipo. Non si può intervenire sulle strutture storiche e monumentali senza conoscerne la genesi e l'originale concezione, per avere idea della quale questo testo è assolutamente un testo fondamentale. Al di là della teoria e dei libri, mi preme però ricordarvi che nell'ingegneria strutturale un ruolo fondamentale è quello della sperimentazione. Non dimenticate mai che, soprattutto quando si vadano a utilizzare materiali nuovi, materiali di cui non si ha una conoscenza statistica, un campo di applicazioni consolidato, oppure nuovi schemi strutturali, nuove ardite concezioni strutturali, non si può fare a meno di andare a validare le idee attraverso la sperimentazione. Esistono allora, in tutto il mondo, in particolare nella nostra nazione, vari laboratori di materiali e strutture, laboratori ufficiali, certificati dal Ministero dei lavori pubblici, dove il materiale può essere caratterizzato, un modello strutturale può essere studiato e sviscerato in ogni suo aspetto, ai quali laboratori va sempre fatto riferimento, appunto, quando si abbiano dei dubbi sul reale comportamento in sito, poi, di un certo materiale o di una certa struttura, al di là, appunto, del modello analitico della soluzione numerica trovata al calcolatore elettronico. In particolare, al Politecnico di Torino, nel Dipartimento di Ingegneria e Strutturale, vi sarete sempre i benvenuti nel vedere come si lavora a livello di sperimentazione, come si lavora sulla definizione delle caratteristiche dei materiali e quindi, non dimenticate, da ingegneri nella vostra vita professionale, accanto ai modelli e alle formule che avrete assunto e saranno diventate, direi, quasi un vostro patrimonio genetico, non dimenticate, dicevo, la parte sperimentale, la caratterizzazione in laboratorio di materiali e strutture, perché molto spesso è proprio questa che ci permette di trovare delle incongruenze, delle deficienze, direi, dei difetti cui analiticamente non avevamo pensato. Benvenuti, allora, a questo corso. Vi auguro un proficuo svolgimento del corso stesso. Noi siamo a vostra disposizione presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. Nella slide vedete l'indirizzo. Sul sito troverete tutti i riferimenti telefonici, fax e email del sottoscritto, Chiaia, e dei due colleghi che faranno il corso con me, i professori Cornetti e Ferro. Vi saluto, vi do quindi ancora un augurio di ottime video lezioni, di ottimo e proficuo sfruttamento del corso di scienza delle costruzioni, sperando che sia di vostro interesse e sia utile per la vostra vita professionale. Arrivederci.